Andrea Bertani, neo capogruppo del Movimento 5 Stelle, buongiorno consigliere. Allora il Movimento 5 Stelle ha presentato sempre sul tema della plastica collegandosi a quello che stavamo dicendo adesso con la consigliera Montalti una risoluzione, una risoluzione che l'Aula ha accolto, in particolare voi chiedete qualcosa proprio per il contrasto alle plastiche in mare. Sì, per contrastare le plastiche in mare le azioni sono tante, noi abbiamo preso spunto dall'iniziativa del Comune di Senigallia di questi giorni in cui c'è stata un'ordinanza che chiede ai bagnini e agli esercenti di smettere di utilizzare la plastica a monouso ma di cominciare ad utilizzare i prodotti compostabili o riciclabili in modo che abbiamo un minore rapporto in mare quindi noi abbiamo chiesto oggi alla Regione essenzialmente di sostenere i Comuni e di coordinarli in un'azione comune perché sarebbe importante che tutti i Comuni della Riviera Emiliano-Romagnola insieme facessero un'azione congiunta per eliminare l'utilizzo di plastica a monouso all'interno degli esercenti della costa per ridurre l'impatto. Abbiamo chiesto anche eventualmente se la Regione poi metterà a disposizione dei soldi, dei bandi perché poi per i singoli esercenti cambiare da una modalità all'altra ovviamente ha un costo e quindi sostenere questo cambiamento. È un tema anche molto sentito dalla comunità, dalle persone, ci sono dei comitati che si stanno formando sui territori quindi in qualche modo diciamo che in questo caso la politica accoglie un'esigenza molto sentita addirittura domenica Lega Ambiente ha fatto la raccolta della plastica in mare e si è parlato veramente di quintali, quintali di plastica. Esatto, l'altro tema è non solo i piatti di plastica in spiaggia ma l'altro tema è l'apporto che viene tramite i fiumi e quindi tutta la plastica inutile che viene già usata in tanti ambiti è quella che poi arriva sui fiumi ed è quella che poi andiamo a raccogliere e troviamo in spiaggia. L'altro aspetto invece è la plastica prodotta nei cicli produttivi della pesca e dell'acquacultura, anche lì bisogna intervenire sulle reti e sulle calze che vengono utilizzate per coltivare le cozze anche quelle dovrebbero essere realizzate in materiale riciclabile, compostabile o biodegradabile anche questa è una proposta che noi avevamo già fatto all'Assemblea. Quindi insomma possiamo dire che siete accanto ai giovani che sciopereranno venerdì per lo sciopero del clima è stato chiamato, come vede questo movimento e visto che siamo tra l'altro vicini a una campagna elettorale per le europee come crede che saranno affrontati i temi appunto legati all'ambiente? C'è stato un sufficiente spazio a questi temi che adesso emergono così portati in primo piano anche dai ragazzi? Per il Movimento 5 Stelle il cambiamento climatico è un tema da affrontare urgentemente tanto che abbiamo proposte anche appunto per un piano di adattamento e un piano di riduzione delle emissioni che diventa sempre più urgente per rispettare quel famoso grado e mezzo che probabilmente non riusciremo a rispettare la critica che i giovani fanno è alla politica perché interviene ma interviene troppo lentamente ed è la critica che anche noi facciamo a questa regione perché se da una parte il PD di questa regione si professa ambientalista dall'altra abbiamo un presidente che organizza manifestazioni per avere più stradi, più traffico, più cemento e che organizza anche manifestazioni per sostenere l'oil e gas e quindi per continuare a destrarre noi diciamo che invece il trasporto va spostato su ferro e gli idrocarburi devono rimanere sotto terra e bisogna spingere velocemente per un cambio verso la produzione e l'energia rinnovabile tanto che presentiamo domani un progetto di legge per incentivare l'estrazione di pannelli fotovoltaici sui tetti dei cittadini grazie